Una grande partita, avete tenuto testa una squadra molto forte il Milan, ti aspettavi questa partita? No, aspettavo una partita molto dura perché loro, come detto prima, sono giocatori molto forti a livello internazionale. Sapevamo che dovevamo soffrire, però sapevamo anche che avevamo delle grandi occasioni, come è stato. Potevamo fare uno o due gol, però è andata male. Però ci siamo goduti la serata, abbiamo lavorato bene, ci è servito in vista della partita di domenica prossima. Che soddisfazione è una partita del genere contro il Milan, avere concesso praticamente nulla a una squadra così? Queste sono partite che danno morale, ci devono aiutare a metterci in condizione perché dobbiamo farci trovare pronti al campionato. Sì, ti danno soddisfazione perché comunque 0-0 sono grandi soddisfazioni, ci fanno tirare su di morale. Però non contano molte soddisfazioni, sono comunque amichevoli e dobbiamo concentrarsi adesso per il campionato. Com'è la Malga, ma anche tra di voi, contando che è finita l'estate e ora si fa sul serio? Sì, infatti adesso ricominciano le settimane tipo. Sì, siamo una squadra giovane, però penso che abbiamo molta qualità e possiamo fare molto bene. Sì, siamo una squadra giovane.